Al quinto posto, abbiamo la Honda Rasa Erba. Adatta per erba di oltre 500 mq, la versione dotata del motore Honda è destinata ad eccitare l'invidia dei vicini che non hanno avuto la capacità di fare l'opzione ideale. È identificato dalla sua impressionante facilità d'uso. È semovente. Con una velocità eccezionale di circa 1,6 metri al secondo. Poi continua abilmente a una velocità di passeggio e non richiede particolare vitalità nel pressing. Al numero 4, abbiamo Murrai, taglia erba. Il Murrai E400 è una falciatrice a benzina semovente dotata di un potente motore Briggs e Stratton Collection 450 e che è identificato da basse emissioni di gas inquinanti. La larghezza di taglio è di 46 cm mentre l'elevazione può essere impostata su sei livelli che variano da un minimo di 28 a un ottimale di 92 cm. Una volta che il cantiere è stato effettivamente ridotto, termina nel grande appassionato da 60 L ma fai attenzione poiché questo Tossa Erba ha un sistema 2 in 1, quindi. Al terzo posto, abbiamo la Rasa Erba Oleumac. Le percezioni che abbiamo avuto dalla Tossa Erba Oleumac, oggetto della nostra analisi approfondita, erano più grandi che buone. Inizia con il framework è molto forte oltre che realizzato con prodotti di alta qualità. La gestione è superba comoda, solida, non ti deluderà così rapidamente mentre ci posizionare le mani su di esso. Il motore EMAC K600O va a una cilindrata di 140 cm³. La modifica del taglio è sistematizzata e l'altezza può variare da 28 a 75 mm. Ha solo lo scarico posteriore. Al numero 2, abbiamo il Alpina BL510SBQ. Il BL510SBQ è un Tossa Erba a carburante per la pacciamatura per il quale abbiamo effettivamente riconosciuto diversi attributi intriganti. Inizia con il motore. Il cuore frustato del Tossa Erba. Scopriamo di aver collocato una collezione Briggs Stratton 650XI estremamente in esecuzione. Tanto da garantire che la Tossa Erba assume anche un cortile alto e o bagnato con decisione. Oltre a un'efficienza superba, la manutenzione è ridotta al minimo. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Husqvarna LC140S. Nella fascia di prezzo medio, senza bisogno di un enorme sborso di risorse, è possibile acquistare un'auto eccellente che porterà molti ammiratori. Ha un motore efficace. La cilindrata è di 125 cm3. È chiaramente alimentata a gas con un motore a combustione interna. Deve essere trascinato ma corre veloce e inoltre non scopre grandi ostacoli lungo il suo percorso. Poiché è semovente, non sarà certamente necessario stancarsi. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie a tutti.